Ore frenetiche di mercato in casa Teramo, ufficiale, l'arrivo di Codromaz in difesa presto lo sarà anche D'Andrea per l'attacco. È il momento dell'accelerazione anche, considerando che sabato il diavolo, come tutta la Serie C, torna in campo dopo le due settimane di rinvio causa Covid. Dunque si torna a lavorare con prospettiva campionato. Guidi avrà a disposizione i tre elementi nuovi già ufficiali, De Grazia, Forgione e Mordini, più due. Codromaz va a compensare la partenza di Piacentini e D'Andrea, che darà sostegno a Bernardotto e Berligea per la prima linea. In mezzo adesso il tecnico ha abbondanza, anche considerando che Rossetti da tempo out dovrebbe presto rientrare a disposizione. Così come invece ha già fatto Cucurullo. Con Arrigoni, Fiorani, Lombardo, Mungo, Viero e due nuovi acquisti il reparto è full, per non dire quasi intasato. Ed è per questo che dovesse arrivare qualche offerta a qualcuno potrebbe lasciare la maglia bianco-rossa. La rincorsa alla salvezza, che parte dal Benelli sabato, è difficile ma non impossibile. In realtà basta innalzare un po' la media punti che oggi, con 19 punti in 20 incontri, recita 0,95 per gara. Passare da questa cifra, ovviamente insufficiente, a quella nemmeno troppo improbabile di 1,16, garantirebbe alla fine della stagione quella quota di 40 che dovrebbe bastare per mantenere la categoria. Il Teramo deve migliorare soprattutto il rendimento tra le Muramiche, troppo spesso violate. A passare alla Bonolis sono state Virtus Sentella, Ancona Matelica, Cesena e Molese e quella Vispesaro, che fu la prima ad imporsi a Piano Daccio lo scorso 19 settembre, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Malotti. I pesaresi hanno perso Giraudo nel mercato invernale sulla corsia Mancina e sono alla ricerca di un sostituto che possa non farlo rimpiangere dopo l'addio destinazione regina dell'esterno. Sul tacuino degli uomini in mercato della Visce c'è il nome di Daniele Sarzi Puttini, classe 96 di proprietà dell'Ascoli. In questa prima parte di stagione ne ha prestito al Messina, 14 presenze e un gol. Cacciatore che in carriera conta quasi 130 gettoni in Serie C, con le casacche di Sud Tirol, Piacenza, Cuneo, Fermana, Carpi e Bari. Sulla corsia opposta è arrivato invece l'italo-francese Parrinello, proveniente dalla Prosesto, classe 2001. Squara quella di Banchini che nel girone B ha pareggiato più di tutte, nove volte, perde poco e quando può c'entra risultati importanti come quello, prima delle vacanze natalizie contro il Siena. Ecco perché l'ottava casella in classifica quota 27 non è un caso. Il diavolo deve provare invece a cancellare un fine 2021 da incubo e quella di Pesaro sarà la prima di tre trasferte consecutive. Partire bene darebbe un'ulteriore spinta, però una rincorsa, sia ad ostacoli, ma niente affatto impossibile.